Giobbi e Marlon mi hanno parlato molto bene di voi. Mi hanno detto che siete una coppia... fina. Siamo fini. Infatti abbiamo lavorato in case di livello molto alto. Ah, attici? No, il livello delle persone, non dei palazzi. Ah, ho capito! Gente altolocata, VIP. E qualcuno che si conosce? Per esempio, Flavio Briatore. E com'è lì? È lì, è abbastanza bello. Montecarlo è un po' caro, a Londra è un po' più fredda. No, è lì. È lì, com'è? È lì chi? Com'è lì chi? La signora Elisabetta Gregoraci. Amor! Questa è la coppia che ci hanno mandato Giobbi e Marlon per sostituirli. Ma è incredibile. A forza di stare in Italia, questi filippini oramai sono diventati come noi. Ma di dove siete? Di Manila? Bacoli. È un'isola nel Pacifico? No, il posto è Pacifico. Ma è in provincia di Napoli? Siamo italiani.